All'epoca era come, se non vai l'università, sei finito, quindi feci una cosa. E per questo, all'improvviso, tutti pensarono che fossi diventato una specie di nemico. Poi ho fatto un patto con tutti gli insegnanti. Anche parlando di scuole e genitori, carriere, sai? In questo momento siamo in un'epoca in cui ci sono così tante carriere diverse, insolite, che emergono, come gli youtuber. Riceviamo sempre questa domanda, sai? Come ne hai parlato i tuoi genitori? Come possiamo convincere i nostri genitori di questa carriera davvero nuova che abbiamo? Voglio chiederti, se hai dovuto convincere i tuoi genitori e dire loro che questo è ciò che... Com'è andata quella discussione? È successo che hai dovuto sederti e dir loro, questo è quello che farò per il resto della mia vita? Voglio fare YouTube adesso. È successo anche a te? Fai YouTube adesso, no? Beh, non tutti possono essere convinti di tutto, ok? Alcune cose vengono fatte e basta. Quindi, solo per darti un esempio, quando ho superato il mio esame di maturità, a quel tempo si chiamava PUC. Dopo decisi che mi sarei istruito da solo, non volevo andare all'università. Questa è una famiglia in cui tutti sono istruiti e non andare all'università è come un sacrilegio. Almeno oggi c'è un po' più di flessibilità. All'epoca era come, se non vai all'università sei finito. Perché? Adesso, probabilmente, se non vai all'università potresti perdere il tuo stile di vita. Ma non perderai la tua vita. Quella era una generazione in cui, se non vai all'università hai perso la tua vita, sei per strada. Questo è quanto. Quindi erano terrorizzati da questo. Mio padre, essendo un medico, era semplicemente terrorizzato da questo. È un uomo molto studioso e per tutta la sua vita, primo, secondo, terzo, in tutto quello che ha fatto. Quindi non poteva credere che volessi istruirmi da solo. Quindi ho fatto una cosa. E per questo, all'improvviso, tutti pensarono che fosse diventato una specie di nemico. E non mi parlavano nemmeno in modo appropriato. Ho fatto una cosa. Ero, solo per dirti, ero un grande mangiatore. Mangiavo dieci volte, mangiavo almeno dieci volte di più di quello che mangio oggi. Ma non ingrassavo mai. O nulla di simile, perché il mio livello di attività fisica era tale. Potevo semplicemente correre su una palma di cocco. Ero fatto così. Quindi ogni giorno pedalavo per 50-60 chilometri circa. Nuotavo nel caveri e tornavo così. Quindi mangiando così. Decisi di andare alla biblioteca universitaria di Mysore. Ogni giorno, quando aprivano alle 9, andavo. Alle 20 chiudono. Tutto il tempo stavo seduto lì. A leggere da Omero, a Meccanica Popolare, a National Geographic, alla letteratura, alla geografia. Questo, quello, qualunque cosa. Qualunque cosa mi capitasse. Ogni giorno, per un anno, leggevo. Così. Semplicemente ogni tipo di cose. Ma la cosa più importante per me era che, sebbene fossi un grande mangiatore all'epoca, tutto quell'anno saltavo un pasto. La mattina mangiavo quanto potevo a colazione, a casa. Poi andavo lì e stavo seduto, tutto il giorno, senza un pasto. Il che era un enorme risultato per me, perché riuscivo a restare senza cibo. Questo ha ampliato il mio modo di vedere la vita. Ma, sai, il dramma familiare è iniziato. Mia madre ha iniziato a piangere. Quando il prossimo anno accademico arriva, vai all'università, vai all'università, vai all'università. Poi ho detto, se devo andare all'università, sceglierò letteratura. Mio padre disse, cosa farai leggendo poesie? Devi diventare un medico. Ha un posto pronto per me, nella facoltà di medicina militare, tutto quanto. Ho detto, no. Poi hanno detto, ok, almeno fai ingegneria. Poi ho detto, vedi... Se dico, non voglio fare il medico, se mi dicessi diventa un veterinario, un medico iorvedico, almeno un medico stregone, ci penserei. Se dico, dottore no, tu dici ingegnere, non ascolterò. Il tuo problema è la società, il tuo problema non sono io. Quindi feci letteratura e in questi tre anni ci sono andato all'inizio e avevano tutti degli appunti già pronti, gli insegnanti. Loro leggevano e tutti scrivevano. All'epoca le penne stilografiche facevano cara, 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 facevano rumore, semplicemente mi irritavo. Ho detto, non voglio ascoltare questo rumore, cara, cara. Ho dato loro un suggerimento. Se ci date questi appunti, ovunque li abbiate presi, li fotocopieremo e ve li rideremo. Noi non dobbiamo venire e voi non dovete venire. Poi, sai, se ero presente facevo centinaia di domande, quindi non gli piaceva. Poi ho fatto un patto con tutti gli insegnanti che mi avrebbero segnato la presenza, che era la mia unica preoccupazione. Quindi, solo una volta al mese, una volta al mese andavo all'università solo per controllare se mantenessero la loro parte del patto. Quindi, ho esplorato la geografia del distretto di Mysore in modo tale ogni sentiero dei villaggi, ogni collina che c'era, ogni piccolo nido di uccelli, qualunque cosa ci fosse, prestavo attenzione a tutto. Prestavo attenzione, semplicemente vagando senza meta. Ma oggi, come quando sono andato al consiglio dei Rally for Rivers, dove ci sono tutti i massimi esperti, sono emerse alcune domande e rispondevo loro in modo disinvolto. Hanno detto, Sadhguru, come fai a sapere tutto questo? Ho detto, quello che era un vagare senza meta, in cui prestavo assoluta attenzione a tutto. Da un verme, a un insetto, a qualsiasi cosa e ogni cosa ho prestato attenzione, ora è diventata una conoscenza formidabile. Non ho mai avuto intenzione di imparare nulla. Ho solo prestato attenzione, perché era vita. E questo è tutto ciò che serve. Siamo venuti qui per vivere e non c'è altro danato scopo. Quelli che vogliono andare in paradiso possono andarci oggi. Perché lo stanno posticipando? Se è un posto così fantastico, non vedo perché dovresti posticiparlo. Non è così. Questo è molto importante per i giovani. Se qualcuno dice che c'è un posto migliore di questa terra, è un crimine. È per questo che abbiamo distrutto così tante cose qui. Grazie. 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 Grazie per la visione!